buongiorno a tutti allora volevo parlare di un argomento un po particolare perché oggi o ieri avevo commentato sotto un video di Luca Nerazzurro un bravissimo youtuber non certo come me lui è molto più bravo su cr7 e c'era la diatriba io ho semplicemente detto che Ronaldo il nostro Ronaldo quello che ha giocato per noi dal 97 98 fino al 2002 2003 era più forte e inoltre ha aggiunto che secondo me cr7 è una fighetta impomatata nel senso che lui è sempre lì che si fa bello si mette a posto i capelli deve battere la punizione contro i tre passi si mette a posto i capelli poi parte tira la manda al secondo anello o la manda in porta dipende come va ma questo non implica che sia forte cioè non confondiamoci lui è forte tra lui e Messi francamente è sempre una bella lotta tecnicamente per me Messi è più forte non di tanto però lui è più decisivo rispetto a Messi Messi molto spesso le partite le floppa soprattutto quelle dei mondiali lui le ha flopate quasi sempre molte partite importanti le ha flopate però tecnicamente tra i due credo che Messi abbia quel qualcosina in più qualcosina in più cr7 è più decisivo sicuramente rispetto a Messi è più decisivo e le partite importanti difficilmente le floppa quindi è sempre una bella lotta tra uno e l'altro però ripeto per me Ronaldo Luiz Nazario da Lima è una spanna sopra tutte e due Maradona è una spanna sopra Pelé è un pelino proprio proprio un millesimo se fosse una gara sarebbe un millesimo più forte di Maradona ma è un mio parere personale ma per un semplice motivo Maradona non ha il fisico d'atleta Pelé sì e quindi la differenza la fa quello poi tecnicamente tra uno e l'altro sono uguali cioè non si può dire più forte uno è più forte l'altro però se tu prendi un giocatore come Pelé che ti segna di testa quel gol che ci fece ai mondiali non so se sopravanzò Murnic o Facchetti ma gli andò sopra a dei Marcantoni come loro e la schiacciò nell'angolino un gol del genere Maradona ma neanche se gli mettono i trampoli lo segna perché tecnicamente è poverino fisicamente è c1 p8 poi tecnicamente vabbè Diego era era un piacere da vedere anche se non ti favi Napoli cioè c'era poco da fare ti faceva di quei gol che applausi e basta da solo ha vinto il mondiale dell'86 l'ha vinto da solo perché anche la finale con la Germania l'ultimo passaggio a Gucciaga gliel'ha fatto lui gli ha fatto un filtrante da da paura però ripeto un conto è dire quella è una fighetta impugnatata perché si comporta così ma io non stavo mettendo in dubbio le capacità di CR7 CR7 e Messi in questo momento sono i due giocatori più forti che giocano in Europa ed è questo il problema perché se se noi andiamo agli anni 60 fai la lista dei giocatori forti ce n'era a parte quelli del Real ma anche in Italia c'erano una birria degli giocatori fortissimi c'era Sivori nella Juve c'era Valentino Angelillo nell'Inter c'era che poi dopo lui è andato via poi sono arrivati Suarez Mazzola poi iniziava a giocare forse Rivera nei primi anni 60 avevamo Benito Lorenzi avevamo Abadeo e Dei cioè ne avevamo una marea di giocatori fortissimi avevamo Eusebio poi sono arrivati gli anni 70 quindi c'erano tutti i giocatori tedeschi tutti i giocatori olandesi Cruyff per primo in Italia avevamo ancora Rivera Mazzola Capello Bettega potevamo mettere di Causio mettete chi volete cioè eravamo pieni di giocatori fortissimi lasciamo perdere gli anni 80 che avevamo Romedì Maradona Van Basten, Gullit cioè negli anni 90 uguale abbiamo avuto Sheva abbiamo avuto Ronaldo abbiamo avuto adesso abbiamo da dieci anni CR7 Messi, Messi, CR7, CR7 Messi, Messi, CR7 dietro c'è il nulla dopo di loro chi ci sarà non lo so perché francamente io non vedo non vedo non vedo campione in giro cioè Mbappé Mbappé, Mbappé, Kanté, che ne so Ramsey che ogni volta che segna ha fatto una strage stasettimana ne sono morti cinque Avissi, Isabella Biagini, quello di Full Metal Jacket poi ne sono morti altri due che adesso non mi vengono in mente cinque c'era su TV Sorriso e Canzoni questa settimana i morti di settimana scorsa che ha segnato Ramsey ha fatto una strage cioè è quello il problema io non lo so negli anni 50 c'erano dei campioni, negli anni 60 c'era una marea di campioni, negli anni 70 c'era una marea lasciamo perdere chi ha avuto il piacere di vivere gli anni 80 dall'80 al 90 che sono arrivati i primi stranieri eccetera noi avevamo una caterva poi sono arrivati anche dei pipponi siamo d'accordo ma un sacco di giorni l'Udinese aveva Zico, il Napoli aveva Maradona, la Juve aveva Platini, l'Inter aveva Rummenig cioè è vero che ne avevamo solo due poi sono diventati tre adesso sono diventati quanti se ne vogliono però li prendevi bene poi certo poi arrivavano gli Uribe e altri fenomeni parastatali che adesso non mi vengono in mente perché molti prendevano in giro l'Inter avete preso Joarie Carine, Joarie col Porto nell'87 se non sbaglio ha vinto una finale di Champions batte insegnando il gol vincente contro il Bayern Monaco quindi lo scarsone eccetera ha vinto una coppa dei campioni Totti no, Totti non l'ha vinta però era 20 volte Joarie Ibra non l'ha vinta però era 40 volte Joarie quindi non vuol dire però ripeto vedo che continua a essere loro due poi c'è il vuoto e non ne vedo, non vedo novità, non vedo nulla in Italia lasciamo perdere non c'è un giocatore che il nazionale sia una spanna sopra gli altri che diciamo che bello è arrivato il nuovo Nesta, è arrivato il nuovo Pirlo, abbiamo trovato il nuovo Baggio no, dobbiamo accontentarci del Gallo e del Cirotto che sta segnando ma perché passaggino davanti al portiere tac, a volte sbaglia anche lui solo che gliene danno 10 di palloni da segnare almeno due li mette dentro siamo un po' così comunque era per spiegare un attimino che non ce l'avevo con cioè per me è una fighetta un po' natata per il comportamento che ha ma poi come giocatore lui e appunto Leo Messi sono una spanna sopra tutti gli altri punto e basta ripeto Ronaldo nostro era superiore Maradona era ancora superiore Pelé rispetto a Maradona è tanto così proprio millesimo superiore ma per il motivo che vi ho detto perché fisicamente era strutturato meglio perché poi dopo Diego se non avessi avuto il fisico di Pelé sarebbe stato superiore nettamente purtroppo Diego era tracagnotto e c'è poco da fare non era un omone era tendente però cioè quel sinistro era qualcosa di altra categoria ok vi ho spiegato questa cosa qui mi andava di dirvela così visto che c'è stata questa piccola diatriba con questo ragazzo che abbiamo commentato lui mi ha detto hai offeso no guardavo il comportamento che ha in campo da fighetta in pomatata punto e basta poi tecnicamente ho niente da dire averne di CR7 però c'è sempre quell'atteggiamento che francamente stare lì a mettersi lì a fare il figo a tirar fuori la maglia a far vedere che lui si è bravo e allora tu devi fare i gol non fare gli spettacolini non sei una pornostar sei un giocatore di calcio fai il giocatore di calcio fai bene bravo però non metti a fare queste cose perché sono ridicole sono quello e permetti facendo così fai la fighetta in pomatata punto e basta fai il Simon Lebon del calcio italiano del calcio straniero visto che in Italia sfortunatamente non verrai mai però era solo quello mica era un problema bene ho parlato anche troppo 10 minuti e 20 di video alla prossima ciao